Non riguarda solo la solita professionalità che dimostrano sul campo, ma questa indagine che la serie continua di quasi ogni settimana dal 2021, ma ho voluto rimarcare la grande sensibilità che i carabinieri hanno avuto nel fare questo lavoro perché sono andati proprio a cercare di contrastare anche il traffico del taglio perché questi spregiudicati si sono messi davanti ai certi a vendere droga. Ho fatto l'esempio come ad un diabetico che gli regali dei cioccolatini e quindi è stato importante perché il dramma della tossicodipendenza che riguarda tante famiglie spesso viene messo in secondo piano rispetto alle grandi indagini alle quali siamo abituati. Anche questa è un'indagine importante, non solo perché è collegata con famiglie di indrangheta di Serie A, penso ad esempio ai Giorgi di San Luca, penso ai Pizzate di San Luca, famiglie che sono nei circuiti internazionali, ma anche arsenali di armi comuni e da guerra, quindi vuol dire che c'è un contesto, ci muoviamo sì in contesto criminale che riguarda tutto il territorio che sta attorno a Soverato, però la cosa che mi preme in questa occasione, che più mi ha colpito è il fatto di aver fatto violenza su anziani, diciamo meglio sui vecchi, che vanno a casa a picchiarli, a vessarli, a rubargli i fucili, armi, immaginate il vecchio cacciatore che ha il suo fucile che tiene come una reliquia, arrivano due spregiudicati, i rompono in casa e gli rubano le armi, immaginate il trauma per i prossimi 10-15 anni, quanto vivranno questi vecchi che si porteranno addosso, oppure questi giovani che tentano, che sperano, che sognano di uscire dalla tossicodipendenza, ti arriva lo spregiudicato, davanti al CERTE ti offre a 20 euro un grammo di eroina. Allora queste per me sono indagini importanti, esattamente quanto le indagini che riguardano famiglie di Indrangheta che si rapportano con Mezzomondo. Quindi ancora grazie ai Carabinieri. Questa indagine ha la caratteristica di operare sul territorio attraverso le articolazioni dell'arma dei Carabinieri, le stazioni dei Carabinieri, che hanno quella capacità di contrasto di gruppi che hanno una conoscenza specifica del territorio. Ecco che poter fare affidamento su esponenti delle forze dell'ordine che assicurino la loro fedeltà è essenziale. In questo caso gli stessi Carabinieri sono riusciti ad individuare soggetti al loro interno che invece di operare per contrastare le attività illecite agivano per eludere le investigazioni nei confronti di determinati soggetti proprio con riguardo alle condotte illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti che era un oggetto delle indagini da parte dei loro colleghi. Quindi è essenziale questa possibilità di vigilare all'interno della stessa forza, della forza di polizia in questo caso i Carabinieri, da parte dei Carabinieri stessi. E' una condotta che ci capita di registrare in diverse occasioni. Ultimamente nelle indagini che sono state di recente citate con delle misure cautelari in alcuni casi sono stati interessati anche esponenti delle forze dell'ordine. E anche in questo caso è capitato. Sì, la caratteristica di questa organizzazione criminale è proprio quella di costituire un anello di collegamento tra le organizzazioni criminali che operano nel traffico di sostanza stupefacente della costa ionica calabrese e le organizzazioni criminali che operano nella costa tirrenica. Per quanto possa apparire una organizzazione criminale periferica e territorialmente è oggettivamente un'organizzazione che opera in un ambito periferico. Era strategica nel spaccio, nel traffico di sostanza stupefacente che attraverso il canale di rifornimento della parte ionica, in particolare dell'area della Locride Regina, riusciva a far arrivare lo stupefacente ad esponenti di organizzazioni criminali che operano nel territorio tirrenico, sulla costa tirrenica e nella provincia di Ibovalenza e che gravitano nelle organizzazioni criminali, diciamo, intorno alla famiglia Mancuso. Così come il canale di rifornimento prevalente di questa organizzazione criminale nella Locride era costituita dagli esponenti, dalle nuove leve, se possiamo così definirle, delle famiglie che tradizionalmente operano nei contesti indranghetistici della Locride, in particolare la famiglia Giorgi e Pizzata.